Vado di là, prendo un paio di forbici e mi taglio un attimo stasera che mi dà una scrittura, vado? Dea! Dea! Quanto ha scritto? Cento per cento! Io sono completamente male! Dea! 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 Adesso quando prendo il mio maio di ciglia qui là, mi dai un attimo la ciglia che mi da questa ciglia qua dell'occhio perché mi fa male! Con le forze! Aia santa! Ti ho detto che cosa... Ma cos'è questa roba? Eh! Devo lasciar lì perché devo fare delle cose che devo aggiustare il video perché... La spegni? Eh! Ma comunque vedi la ciglia che c'è qua sull'occhio e la vado a tagliare un attimo con le forbici! Come con le forbici! Eh! 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 Sì sì! Le forbici sono qua! Eh! Ma lui c'è quel porco! Ah! 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 Sei scema! Ma questa qua... Ah! Non si devono tagliare quelle toglie? No! Ah no! Ah vabbè! Se no la posso tagliare con... Dammi un po' le fornici! Ma no! No! Lassa stai! No, la taglia poi la mamma... Lassa stai! Si! No, la taglio col coltello, dai Eh Ma guarda prende coltello Ma che cavata Devo far finta che ignoro Che Che Perché il mio nonno è invisibile Ma dove è andato il nonno? Dove è andato il nonno? Ma dove è andato il nonno? Eh Dove è andato? Si sta già incavolando Dove è andato il nonno? Ah Eh Di cosa? Come hai fatto a romperlo? Dimmi come vi fatti Ma mi è caduto stamattina per terra Così? No Facciamo così Bam Mi è caduto con la custodia No Facciamo una cosa Facciamo finta che dico un sacco di bugie All'altro giorno a scuola Mi hanno detto Prendi Se hai delle ciglia Prenditi un coltello e te le strappi Ma ti sembra una roba da Ma guarda che mi dico Nella scuola E sta roba qua Ma che te le hai detto? Ma non con un coltello Con le forbici I miei compagni di classe Mi dicono Posso la fotocamera? Tu le ciglia Non devi toccartene Eh Non devi toccarle È pericoloso Ma allora Ma gli altri mi hanno detto Che se ti dà fastidio Dipende delle forbicine tagliate Ma io ho paura Ma che forbe Ma mi dico a la mamma Se ti dà fastidio Beh Eh Mi dice la mamma Perché devo dire la mamma? Eh Te le taglia lei Se deve tagliartene Eh Non so Sano da so Vediamo Vediamo cosa dicono Ancora a scuola Ma a chi? A scuola I compagni di classe Ma ma i compagni È più importante Tu mamma I compagni La mamma Ma meno male Ma tanto adesso Domani devo fare Sta roba qua Che roba? E domani di nuovo Devo fare un'altra roba Madonna santa Ma che roba? Domani? Eh Eh Cosa che devo fare? Domani non mi ricordo più Eh Per la scuola? Per la scuola Eh Dove andare a fare la spesa Ma Vai col papà? Sì 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 Vado col papà A fare la spesa La faccio con papà Sto dicendo un sacco di bugie E lunedì si gioca Lunedì si gioca Eh 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 Quindi adesso lunedì mi sparo Sì Lunedì La mamma fa la notte la monna Eh? La mamma fa la notte la monna La mamma Ma io non so dove metterla sta roba Ma sarà lì? E' scritto Adesso adesso vediamo cosa a fare qua Eh sì è nata fa la notte Adesso domani alla lunedì mi sparo Così non so ma cosa stai dicendo? lo dico sempre a scuola perchè mio padre lo dice e non viene da dire a scuola non devi dire cose così ma... non scherzare ma tuo padre io voglio sapere perchè lui le dice noi? no mio padre ma tutte le volte le dice ma anche quando siamo a casa da sole solo quando c'è la mamma non le dice non registrare eh? non registrare registrare ma dove? ma guarda che lo sto registrando perchè se stava registrando veniva il rec qua tu lo sai che quando viene il rec viene quando si registra viene il rec qua adesso non c'è sto guardando vedete non c'è il rec solo se c'era non si vedeva no non c'è no non c'è perchè se c'è il rec scritto là cosa devo fare adesso? cosa devo fare adesso? cosa devo fare? cosa devo fare? due 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 those ooo come faccio due tre vi quest'alla? adesso lavando ti fai male? ai 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 e ai un po' vai sopra pedale dai così si fa sediti dai pedale ma non dietro avanti così ti fai un po' di fa bene le gambe cosa fai? perchè si muovono le tue gambe? faccio così perché è così alle braccia invece non fa niente alle braccia non fa niente eh vabbè il prossimo giudizio non c'è l'era ah 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 perchè ti vengono i numeri qua? questo qua ha quelle pulsazioni ma devi metterle le mani qui sopra senza falsoletto però puoi girare tra le luce ecco adesso ho 72 pulsazioni adesso vediamo se lo riesco da uuuuuh guardate ci sono alcuni che vanno proprio così anche eh io proviamo a mettere la falsa per ferra a te piace fare ginnastica nonno? a me no perchè non lo posso più fare come non lo puoi più fare? eh romper il tuo cuore senti ma è ginnastica quella posso solo fare della ginnastica leggera se puoi bicicletta posso farla eh si? si adesso voglio vedere una cosa vediamo se ne scalpecami qua eh no bea senti adesso finchè scherziamo non si tocca sta roba qui viene la nonna gli prende un accidente hai detto che sta roba no 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 nonno ma perché adesso mi parli cosa vi mi hai circolto da fare una penta si mi provinci l'accidente ma è la pedalaö è un'animalea scendi qua scendi questo qui ok